Il vaccino anti-covid, se fosse disponibile, se lo farebbe adesso? Sì, sì. Immediatamente, immediatamente. No, io attualmente no, perché da quello che ho sentito, le informazioni da ignorante, ho visto che ci vogliono almeno dai 5 ai 10 anni, quindi... No. Solo che, se non contrario, avrei un po' di paura. No. Come mai? Ma Dio, voglio che lo testino altri prima di me. Subito? No, perché non penso che si possa fare un vaccino così in fretta. Ci sono sempre voluti anni, quindi se fosse reso obbligatorio, ovvio, lo faccio, però no. Certo, bisogna vedere chi lo vende però. E lei? Anch'io che lo farei subito. Io non lo farei, se poi sono obbligato a farlo, come il discorso della mascherina, della distanza, eccetera, si fa però, non lo farei. Al momento no. Come mai? Perché preferirei aspettare un attimo, vedere di essere sicura, certa. Tenuto conto della mia età, sì. Vorrei prima che verificassero bene questo prodotto, perché non è che mi fido molto. Assolutamente sì, non tanto per una sicurezza personale, quanto per una sicurezza per gli altri, per chi mi sta vicino. No, se devo farlo, perché il governo me ha detto sì, va bene, lo farò. Anche perché ce ne sono diversi, bisognerebbe scegliere quello che funziona meglio. Siccome non ci sono ancora delle evidenze chiare, per il momento mi astengo e ne faccio a meno. Benvenga il vaccino, però ci vogliono delle notizie, quantomeno delle informative certe. Grazie. 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 Grazie.